dove abbiamo avuto il piacere di allestire questa manifestazione di regolarità classica per autostoriche intitolata prima rievocazione storica Tolentino Colle Paterno oggi abbiamo potuto dare nuova memoria alla prestigiosa gara automobilistica di velocità in salita Tolentino Colle Paterno devo dire che questa manifestazione ha già riscosso un grande successo data la vostra passiccia presenza che ripaga ampiamente il nostro impegno profuso nel cercare di creare un bel evento sinceramente non ci aspettavamo così tante iscrizioni sono più di 70 le autopartecipanti e ciò ha comportato la decisione del comitato organizzatore di dare rilievo non tanto al lato tecnico della gara quanto alla realizzazione di un raduno da svolgere in un'atmosfera di amicizia di relax, di festa e di condivisione delle bellezze di natura fisica e culturale che la città di Tolentino possiede e tanto le prove di regolarità da svolgere saranno le prime nove della tabella tempi e distanze che avete già ricevuto ora chi vuole visitare il museo della caricatura si può arrecare all'ingresso del Palazzo Sangallo la mostra si trova al primo piano che potete raggiungere anche in ascensore la visita avrà una durata di 20 minuti il Palazzo Sangallo è da quella... è quello lì subito dopo saliremo tutti in auto per raggiungere la strada che collega Colle Paterno percorreremo dapprima la via di San Nicola la strada quella di fronte che si trova di fronte a noi proseguiremo poi sempre dritto e seguendo le indicazioni per il ponte del diavolo le frecce e le indicazioni del personale addetto ci condurranno al punto di partenza delle prove le prove sono nove e concatenate ciò significa che il tempo viene calcolato di seguito senza interruzioni nel tratto non troverete un cartello giallo prima di questo cartello potrete fermarvi nel caso in cui siate in anticipo